Diretto su Bertolino, ma volesso per la vicina, un teatro a me emozione, ma me manco buvo il sole, non fu più un po' buvino, stuva pronta stamattina, che ha già smasso in vita a mano, poi mi abbraccio pure l'aria. Sentite, ma io veramente ho tenito l'appuntamento con Luca da Filippo? Eh, certo che l'ho detto. Madonna mia, è bello ora conoscere Edoardo, il grande Edoardo. Finalmente è arrivato per me il momento di conoscere il grande Edoardo. Papa, ti presento Ciro Bertolini. Piacere.